Chi non ricorda lo storico gonfalone della provincia di Torino che nelle cerimonie ufficiali rappresentava l'istituzione e il suo territorio? Su quel gonfalone il 25 aprile del 2005 fu appuntata la medaglia d'oro al valor civile conferita dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi per il contributo offerto dal territorio e dalle sue popolazioni alla guerra di liberazione nazionale e alla resistenza. Ora la città metropolitana si doterà di un nuovo gonfalone previsto dall'articolo 3 dello statuto del nuovo ente. La soluzione approvata con voto unanime del Consiglio metropolitano è stata quella di mantenere il tradizionale e storico simbolo della provincia sostituendo la dicitura provincia con quella di città metropolitana di Torino. Il sindaco metropolitano Piero Fassino scriverà alla presidenza del Consiglio di Ministri perché autorizzi la città metropolitana ad apporre sul nuovo gonfalone la medaglia d'oro al valor civile per la resistenza. Le istituzioni vivono e sono efficaci in quanto i cittadini le riconoscono, in quanto i cittadini si sentono parte di quell'istituzione e quindi ne condividano l'identità e la sentano come propria. È un percorso, è un processo che bisogna far crescere e maturare ogni giorno. Il gonfalone è uno dei modi con cui noi rendiamo visibile la città metropolitana e consentiamo al cittadino quindi di identificarsi in essa.